In assenza di una legge nazionale che regoli e tuteli i rapporti di convivenza tra due persone scendono in campo i notai, si svolgerà sabato 30 novembre in tutti i consigli notarili d'Italia l'iniziativa Contratti di Convivenza Open Day. Dalle 10 alle 6 del pomeriggio, nella sede del Consiglio Notarile Distrettuale di Napoli, in Via Chiaia, le coppie interessate potranno gratuitamente ricevere informazioni e consulenze su come regolare il proprio rapporto di coppia dal punto di vista patrimoniale. L'iniziativa si fonda su un dato. Secondo l'ultimo rapporto Istat, dal 2007 al 2011 in Italia il numero delle famiglie di fatto è passato da 500.000 a 972.000 e in particolare proprio le convivenze More e Uxorio hanno fatto registrare l'incremento più sostenuto, arrivando nel 2010-2011 a 578.000. Un dato confermato ulteriormente dalla diminuzione dei matrimoni che nel 2012 hanno subito un decremento di 12.000 celebrazioni. Sull'argomento abbiamo ascoltato Antonio Areniello, Presidente del Consiglio Notarile del Distretto di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Noi riteniamo che sia importante disciplinare gli aspetti patrimoniali, per esempio ci sono tante fattispecie, ma la regolamentazione della partecipazione alle spese comuni, lo statuto dell'abitazione di proprietà o in locazione, l'eventuale assistenza attraverso vitalizi, la designazione di un amministratore di sostegno per il caso di incapacità di uno dei due, fino ad arrivare anche alla disposizione testamentaria nel rispetto dei diritti successori e quindi nel solco dell'ordinamento vigente, ma dando un segnale di interesse nei confronti di un fenomeno che in Italia ha assunto dimensioni notevoli.